buongiorno a tutti e ben sintonizzati su ok italia parliamone sempre in collaborazione con asso camerestero your italian hub e italy oggi nuova puntata di ok italia parliamone per mettere a confronto italia e stati uniti d'america nostro ospite gradito oggi però che tale parliamone per parlare insieme di mercato del vino italiano negli usa abbiamo annunzio castaldo il presidente della pane bianco wines import benvenuto catal castaldo grazie per l'invito è un piacere stare con voi e come ben vedete oltre alla partecipazione di runzo castaldo abbiamo anche la mia compagna di viaggio in questo importante ciclo di approfondimenti letizia airos editor in ship di italy network benvenuta letizia un saluto a tutti da new york oggi oggi per fortuna c'è il sole adesso di nevicare e adesso entriamo nel meraviglioso mondo del vino negli stati uniti d'america vino italiano naturalmente ebbene ci mancherebbe altro letizia dobbiamo promuovere il nostro bel paese e iniziamo proprio raccontando prima chi è il nostro ospite di oggi in modo che i nostri ascoltatori possano ben sapere chi hanno di fronte bene l'unzio castaldo possiamo definirlo un attivo promotore della crescita e della promozione proprio del vino italiano negli stati uniti perché fa questo da oltre 34 anni e lei perché 34 anni perché nel 1986 viene assunto dalla wine bov e inizia la sua carriera come agente commerciale che viene assegnato ai ristoranti italiani nel quartiere di manattan a new york nel 1994 quindi dopo otto anni nunzio dà vita alla prima divisione commerciale italiana di wine bov a new york quindi un traguardo veramente importante passano 31 anni di collaborazione con questo importante gruppo e nel novembre del 2017 decide di lasciare dei wine bov group per mettersi in proprio decide di seguire un sogno di realizzare un progetto indipendente l'acquisizione della pane bianco wines import che è una compagnia importatrice distributrice di vino italiano sull'intero mercato statunitense che aveva già anzi che aveva che oggi ha ben oltre 25 anni di attività alle spalle quindi abbiamo un pochino raccontato chi è il nostro ospite ma un un ultima cosa che vorrei dire di nunzio castaldo che è un napoletano doc un napoletano verace si laurea in una splendida cornice che è quella della facoltà di economia e commercio in via partenope a napoli nello splendido waterfront come viene oggi definito perché è stato recuperato e restituito ai cittadini e attualmente vive anzi attualmente vive ma da tantissimo tempo a new york dove è listabile anche con moglie e due bambini bene è una prima domanda per cercare sempre di sciogliere il ghiaccio nunzio ma quando ti è venuta l'idea negli anni 80 di trasferirti a new york e immagino che è rifresco di laurea come mai il il desiderio di inseguire questo sogno di sfidare nuovi mercati e perché il vino beh innanzitutto devo dire che la motivazione sono stati due la prima per un libro che ho letto e che mi hanno regalato e che lessi quando aveva quando avevo due 22 anni 21 22 anni in un'estate calda come sono l'estate a napoli e questo libro era scritto in inglese quindi ho prestato molta attenzione perché allora non parlavo così correntemente quando facciamo adesso e si chiamava on the road di c'era e lì mi ha fatto aprire una finestra immensa su questo continente la seconda invece è stata un po più articolata perché la mia famiglia a napoli in campania ma adesso anche in italia è una famiglia di imprenditori e e poi spinto da mio padre mi disse adesso tu devi andare all'estero raccogliere tutto quello che puoi raccogliere e portarlo a casa perché farai parte di questa grande scalata che infatti è avvenuta non con me ma con mio fratello della loro azienda di famiglia e per una volta venuto io sono qui innamorato mi immensamente di questa di questa di questo paese e attraversato eh eh cost to cost come si può dire un paio di volte e mi sono innamorato eh prima del paese poi follemente di una donna che adesso è mia moglie dopo trentacinque anni eh felicemente sposati e quindi sono rimasto qui e quindi nel entro nel settore del vino perché in quel momento eh mio padre la mia famiglia naturalmente abdicare a un non ritorno e mi disse ok eh c'è un mio amico un nostro amico di famiglia e nel settore del vino della distribuzione se hai bisogno chiamalo che lui sicuramente dirà lavoro e ho cominciato proprio così ecco una sola domanda scusami Letizia l'attività l'inquadratura siamo in diretta lo possiamo dire ma se poi non c'è nel mento insomma non va bene no 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 scusate ma è un po' un denunzio ma l'attività imprenditoriale di famiglia per rispiegarlo anche ai nostri ascoltatori vi occupavate sempre di ristorazione food and beverage no 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 indirettamente sì perché di alimentari eh la mia famiglia nasce prima come esercenti commerciali quindi negozi poi una branca si è specializzata nella nella distribuzione infatti la mia famiglia fu quella che insieme alla famiglia Rosi eh ideò Parmacotto ehm e poi una branca quella diciamo interessata a mio padre praticamente eh alla produzione propria adesso noi abbiamo tre opifici eh due in Campania e uno fuori Campania eh dove si producono milioni e milioni e milioni di buste sotto vuoto per la grande distribuzione sia per il settore nazionale che per la GDO europea insomma avrete capito che noi eh diciamo in questa intervista eh parleremo oltre che di pandemia perché diciamo lo dobbiamo fare in questo momento assolutamente eh accarezzeremo un lungo periodo di storia imprenditoriale italiana soprattutto legata al vino e non sono trentacinque anni fa che cosa era il vino italiano negli Stati Uniti? Eh è una bellissima domanda perché io eh entro nel mondo del vino nel l'anno più sfigato eh della diciamo della storia della distribuzione dei vini italiani in America perché era l'anno del metanovo e quindi entrare in un in un negozio o in un ristorante per parlare i vini italiani quando c'erano le testate sul New York Times che eh invitavano a non comprare i vini italiani voi immaginate che tipo di esordio c'è stato però era anche l'anno o erano negli anni del grande made in Italy del fashion e quindi showrooms eh viaggi in Italia dalla parte di Ameri dai buyers americani soprattutto a Milano Firenze eh invitavano proprio a a bere e a mangiare in un modo diverso da quello che era invece prima da allora insomma e quindi io ho fatto leva proprio su quella su quel filone lì e mi ricordo che spesso eh prima di entrare in un ristorante è abbastanza famoso eh cercavo sempre la connessione o la connessione della diciamo della eh di chi era nel settore del fashion e quindi ho conosciuto contemporaneamente un po' tutte e due le fasce commerciali insomma proprio per questo motivo poi il discorso del del metanolo ehm è svanito e lì si è vista la classe del vino italiano che ha dovuto poi combattere per tanti anni diffidenze però mh ce l'abbiamo fatta insomma. Diffidenze? Quali diffidenze? 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 Sì no diffidenze perché alla fine eh il vino che si beveva e che si consumava e che si acquistava eh alla fine degli anni settanta era un vino abbastanza generico un vino che eh eh era più permettetemi di dire fatto in cantina che in vigna e quindi su base dolci perché naturalmente l'Ambrusco o Riunite io adesso non vorrei fare nomi però diciamo era quella la tendenza insomma di Jug Wines cioè vini eh prodotti in tre litri un litro e mezzo ma meno valorizzazione a quello che invece era eh l'impegno di un di una famiglia di generazioni di eh eh cioè winemakers che invece in questo momento fanno tutto un altro lavoro. Quindi ci sarà stato un momento di cambiamento un momento importante per il vino italiano. Non so se lo vuoi ricordare. Sì 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 c'è stato perché io credo che io spesso chi mi chiede la stessa domanda io credo che la più grande rivoluzione che abbiamo assistito nel fine alla fine del del secolo scorso è stata quella quella culinaria eh cioè fino a qualche anno fa era in immaginabile eh trovare la mozzarella di bufala addirittura se la vuoi di Pestum oppure quella casertana oppure la burrata pugliese eh non esisteva il tirannissù non esisteva il piatto del cappaccio di manzo eh il radicchio trevigiano era un miraggio insomma tutte queste cose hanno confluito e aiutato naturalmente ad adattare i vari dei varie diciamo i vari palati no che avevano voglia proprio di di cose nuove non più di di stecche patate e hamburgers e e cose del genere insomma poi un grande impulso ci sta eh l'ha avuto anche attraverso ehm lo spostamento delle persone che andavano in Italia a a a conoscere questo nostro bel paese insomma. Ecco Nunzio parliamo proprio di conoscenza del nostro ben paese. Tu ci hai raccontato le difficoltà dei primi anni perché hai debuttato ecco sulla scena del del vino italiano negli Stati Uniti nella piena crisi possiamo dire forse gli anni più bui della nostra tradizione vitivinicola ma oggi quanto è importante raccontare la storia del vino la storia dei produttori ecco quanto che ruolo ha lo storytelling per cercare di far capire realmente la passione la storia le tradizioni la cultura che c'è dietro una bottiglia di vino che arriva a tavola. Un'ottima domanda perché uno dei patrimoni che eh noi italiani abbiamo è proprio lo storytelling che tanti altri paesi diciamo soprattutto nella 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 parte diciamo nuova no della della produzione del vino e parlo della dell'Australia, Nuova Zelanda, Cile, Argentina, eh Sudafrica non hanno quel diciamo questo patrimonio che noi abbiamo il dovere e la necessità di trasmettere ai 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 nuovi consumatori. Ebbene storytelling è molto importante perché quando si parla di di un vino non si parla solamente del liquido che c'è nella bottiglia ma bensì si parla di una famiglia di generazioni di una un varietale che in per il 90% delle volte non in altri in altri posti del mondo. Eh si parla di diciamo di 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 vulcani e di cioè si parla di tante cose, si parla di di tradizioni culinarie, di piatti che sono diversi eh anche se di stessi ma sono diversi da regione a regione, da provincia a provincia, da comune a comune. Insomma tutto questo fa parte naturalmente di questo eh patrimonio ehm incredibile che noi abbiamo. perché noi possiamo competere con i nostri eh cugini e fratelli francesi solamente attraverso eh la nostra diversità. Questo è quello che eh io spesso ho ho trasmesso e soprattutto eh ho inculcato prima nella diciamo nei miei colleghi, nei miei collaboratori sul campo e poi naturalmente attraverso eh interviste di questo tipo nel diciamo nella nella parte americana insomma. Perché noi abbiamo questa questa questo questo patrimonio che è incredibile. Beh pensate che i vini i vini francesi per il 70% sono prodotti da massimo 20 varietari, no? In Italia noi abbiamo ufficialmente registrati più di 350 varietà. e quindi questo è qualcosa che nessuno ha e che non valorizziamo secondo il mio punto di vista abbastanza. Perché mentre gli altri paesi, io parlo sempre nel settore del vino e non solo, tante volte fanno comparto, noi invece siamo sempre lì a in un modo feudale a diciamo a trattenere tutta questa diciamo questa connessione che sarebbe una cosa veramente importante insomma. Lasciami dire che sei uno dei migliori narratori che io abbia mai incontrato negli Stati Uniti d'America. Cioè lui comincia a raccontare e tu rimani affascinata perché veramente conosci anche il modo in cui lo fa è veramente straordinario. Grazie, grazie. Adesso però vorrei essere un pochino più pratica, no? Grazie a fare una sorta di quadro del mercato del vino prima della pandemia ovviamente, poi parleremo di quest'anno. Vino italiano, che cosa stava accadendo, come stava andando? Beh eravamo guarda in uno stato di grazia perché innanzitutto dovete sapere che fino a una decina d'anni fa su ogni quattro bottiglie che si vendevano, di bottiglie di vino che si vendevano in America, ebbene tre erano americane, prodotto diciamo da produttori americani, con vini americani e una solamente era una bottiglia di vino di importazione. Quando parlo di importazione è un'importazione globale. Di questa bottiglia noi un quarto era quella italiana. Non so se mi sono spiegato, nel senso diciamo delle proporzioni. Quindi naturalmente spinti anche da vini che stanno riscuotendo ancora tanto successo, come il Moscato, come il Prosecco, come il Pinocrigio, noi avevamo veramente una posizione di ferro nella distribuzione e nel consumo dei vini italiani negli Stati Uniti. Ebbene questa lancetta, questa bassa, questa barra, si era spostata per i vini di importazione quasi oltre il 30% di questo 100% di consumo di vino in generale. Pensate che stiamo parlando di fatturati incredibili perché il totale fatturato della vendita del vino si aggira intorno ai 60 bilioni di dollari. Ebbene di questo 68 bilioni, quasi 16 bilioni sono quelli di vini importati, mentre la rimanenza è quella naturalmente americana a cui riferimento. Detto questo, che è un dato macro, la cosa interessante è che nel comparto di questi venditi del vino italiano, si stavano sempre di più allargando le vendite di appellazioni e di regioni che non erano le solite come il Veneto, Sicilia e Toscana e anche Piemonte, ma si affacciavano anche il Molise, l'Abruzzo, l'Alto Adige per esempio, timidamente anche l'Emilia Romagna, insomma Campania molto molto forte e poi Puglia. Insomma in un modo abbastanza trasversale tutte queste realtà che prima erano soffocate dalla potenza dei grandi numeri, bene o male venivano distribuite soprattutto nella ristorazione. Ecco, non so, proprio di ristorazione, io Letizia abbiamo il piacere di intervistare un importante, anzi forse possiamo anche dire a Letizia uno dei più importanti ristoratori italiani che Sorrentino che tu sicuramente è stata una grande piacevole chiacchierata anche con lui. Beh Sorrentino ci ha un pochino raccontato il momento di grande difficoltà che ovviamente sta vivendo tutto il settore della ristorazione e quindi di conseguenza anche dei prodotti di eccellenza alimentare del food and beverage di origine italiana che sono per la maggior parte destinati appunto alla ristorazione, all'uso domestico. Anche questo per un discorso di cultura, di abitudini ovviamente anche negli Stati Uniti. Ti chiedo ecco questi dati, queste prospettive molto positive che ci hai appena raccontato dove appunto si è aperto uno scenario interessantissimo per un po' tutte le regioni. Sappiamo che vini buoni ci sono un po' dovunque. Sono un esempio, addirittura c'è una regione in cui fino a pochi anni fa si pensava che non sapesse fare il vino, non me ne vogliano male i laziali ma il Lazio era difficilmente ritenuto a una regione dove vi fosse del buon vino. Oggi anche il Lazio ha dei vini di assoluta eccellenza che iniziano a riscuotere premi, riconoscimenti e soprattutto gradimento tra coloro che amano il nettare rosso o il nettaro bianco. Bene, a questo punto la pandemia quanto ha inciso nel bloccare questo trend positivo di crescita e come sarà il mercato subito dopo? Posso aggiungere una cosa così, è una risposta unica, c'è stato anche un cambiamento di abitudini comportamentali dei clienti, magari hanno ordinato più online non potendo andare al ristorante. Assolutamente, assolutamente. E' un po' di mercato, cioè quali sono i vini, quelli di medio prezzo, quali sono quelli che insomma vengono venduti di più negli Stati Uniti? Beh, se mi permettete voglio partire un po' più da dietro, così si ha un quadro un po' più diciamo ampio della risposta che vi sto per dare. Innanzitutto il dato più importante è che rispetto ai giorni di quando io portavo la borsa diciamo di vino attraverso le strade di New York, ora siamo arrivati a un consumo pro capite, naturalmente dalla popolazione oltre i 21 anni perché qui è l'età diciamo base, di 11 litri di vino pro capite che è un successo incredibile perché ricordo che tanti anni fa era veramente un vino del 6-7 litri di vino, un vino che certamente non aveva le qualità organovettiche di questi oggi. Quindi questo è già un dato abbastanza importante. Teniamo presente che il 49% della fascia dei millennials, che questa è una cosa importante per noi operatori perché questo è un patrimonio che dobbiamo curare per tanti anni perché sono i nostri clienti, adesso beve per il 49%, cosa che non poteva mai esistere prima diciamo di questa fascia generazionale. Di questo 49% il 54% è un consumatore donna e il 44% uomini e questa è una cosa importante da sottolineare perché la donna in certi sensi è molto più loyal, più fedele diciamo al consumo e quant'altro e soprattutto alle marche e di conseguenza anche ai varietari. Ora vengo alla risposta. Mi scuso se ho fatto un po' una parentesi. Era interessante, era molto interessante. A parte il fatto che sono sicuro che anche il mio carissimo amico Gianfranco, un altro proprietario doc, una persona che si è distinta in un modo egregio nel suo settore e continua a farlo con mille difficoltà, avrà già risposto esorientemente. Però la pandemia, secondo il mio punto di vista, è stata un acceleratore, non è stata una causa, un acceleratore su alcuni organi di diffusione e di distribuzione del vino italiano. E voglio spiegarmi un esempio. Io ho una figlia e un figlio che vivono da soli, naturalmente già indipendentemente da tanti anni, hanno un papà che con un po' di destrezza li poteva fornirli del vino. Loro non preferiscono comprare tutto online per un metodo di praticità. Quindi, mentre erano in ufficio, loro entrarono in un sito, diciamo di una piattaforma di distribuzione di e-commerce online, è arrivata stasera, io mangio cinese, quindi ho voglia di un Riesling. Si mettono l'accoppiata del Riesling che vogliono avere e con il costo praticamente che vogliono investire e mentre loro fanno il tragitto dall'ufficio a casa, il vino è già sotto in portineria. Ecco, questo è stato praticamente un vantaggio per la diffusione e la distribuzione e l'acquisto del vino in generale, non dico italiano, per questa fascia di consumatori che ha certamente più mezzi e più strumenti per avvicinarsi a questo prodotto. Quindi, il discorso comportamentale nella fase della pandemia è veramente, veramente importante perché ora noi stiamo a casa, una casa che prima consideravamo residenza, adesso la nostra casa è diventata Starbucks quando vogliamo l'Espresso, è diventato il nostro meeting room quando abbiamo bisogno di fare un meeting con un cliente o con chi altro, è diventato la nostra sala cinema quando ci mettiamo davanti alla televisione a vedere i film su Netflix, è diventato veramente in un modo abbastanza anche molto drammatico, diciamo veramente il, quello che chiamiamo, il cocoon, la rana di tutte queste cose. insomma, e quindi anche per il vino, e poi finisco, anche per il vino, il consumo del vino, purtroppo c'è un'abitudine che purtroppo non possono in questo momento modificare, bere, casomai allo stesso orario, allo stesso posto e con la stessa persona, mentre invece quella convivialità che c'era prima nella ristorazione, c'è bisogno insomma, perché altrimenti è un discorso umano più che diciamo commerciale. E il vino italiano come se la sta cavando? Il vino italiano, ecco, questa è una bellissima domanda, perché il vino italiano se la sta cavando io credo molto bene, molto bene, io sono, vabbè, io per natura sono sempre ottimista, io sono nato sempre, diciamo, fortunatamente guardando il mare, quindi tu non sai mai quello che succede alla fine di quella, del, diciamo, del tuo, diciamo, del tuo obiettivo, no? E quindi io sono sempre stato prepositivo anche durante la fase più appunta della pandemia. Il vino italiano, secondo me, se la sta cavando bene, perché fortunatamente noi possiamo, attraverso siti o attraverso informazioni, che adesso sono molto più veloci e più semplici da attenere, possiamo ancora dire tanto, diciamo, della meccanica del bene e della gustazione. La nostra non è, diciamo, la nostra offerta non è limitata nella somministrazione di un liquido, ma bensì è un'esperienza, un'esperienza. Il viaggio in Italia manca a tutti, il poter andare dal panettiere che ti vende, che ti posso dire, la fettina di tiramisù, piuttosto che dal ristorante italiano con il cameriere che ha l'accento, piuttosto che il design, diciamo, che tu hai nello stare nell'abitato italiano, manca. Veramente è una forma di astinenza in alcuni casi. Siamo purtroppo veramente pochissimi minuti di chiusura, però un'ultima domanda, flash e te la voglio fare. In che modo, secondo te, lo Stato italiano, il governo, dovrebbe aiutare i nostri produttori per far sì che il vino italiano raggiunga sempre di più il mercato statunitense? Questa è una domanda un po' articolata. Comunque io credo che innanzitutto ci dovrebbe essere una cabina di regia importante. Una cabina di regia che non deve essere solamente reattiva, ma soprattutto di grande impostazione strategica. Ripeto ancora una volta, noi siamo molto bravi nell'isolarci e fare il nostro lavoro indipendente. Altrimenti non avremmo avuto grandi egeni della nostra storia, e non solamente nel settore del vino, ma in tutti i settori come voi ben sapete. Però oggi, come non mai, c'è bisogno di una grande agglomerizzazione. Secondo il mio punto di vista, dovrebbero esserci un sistema quasi satellitare, però che deve fare capo a una cabina di regia importante. I fondi sono necessari, ma non sono tutti. La comunicazione è quella che invece, per il mio punto di vista, è essenziale. Adesso la comunicazione non costa più tanto come quella quanto costava prima. Ci sono delle piattaforme digitali che possono fare degli ottimi lavori. Letizia è molto più esperta di me in questo caso. Qui negli Stati Uniti la velocità e il traffico su quello che possono essere degli arnesi, degli strumenti come Instagram o Facebook o LinkedIn, oppure addirittura adesso anche TikTok. Per esempio, la generazione Z, mentre quella dei millennials viaggiava con l'Instagram e Twitter, adesso invece è TikTok. Allora, affrontare queste finestre sul mondo dei consumatori è importante. Dobbiamo avere il coraggio di far entrare, anche in quelle strutture amministrative, politiche, un po' obsolete, persone che lavorano e pensano nello stesso modo che dobbiamo educare i nuovi consumatori. La Cina, per esempio, è mille anni luce su questa cosa ed è un paese ingessato, come tu pensavi. Quindi ritorniamo allo storytelling. Il nostro paese ha un enorme patrimonio di racconti e dobbiamo essere in grado di farli nel modo giusto e farli arrivare. Io racconto solo a volo una piccola cosa. Un'amica americana che mi è venuta a trovare a casa mi ha portato un vino italiano, ma prima di comprare questo vino italiano, un normale Barolo per noi, lei si è andata a studiare tutta quanta, la sapeva di tutto e di più sul Barolo prima di regalarmelo. Ecco, questa è la grande curiosità che c'è in questo paese e questa è la nostra grande ricchezza. Sono pienamente d'accordo con te. Io secondo me avrò fatto almeno una ventina di Zoom meetings mentre c'erano delle tavole con persone che cenavano, pranzavano e bevevano e io spiegavo il vino. C'è proprio necessità di queste cose qui. Quindi, sì, storytelling è un nome un po' abusato, però bisogna fare comparto, non c'è niente da fare. Bisogna fare veramente in questo momento squadra e non solo parlare del piccolo comune, della piccola appellazione o di quel produttore specifico. dobbiamo allargare la visione e raccogliere tutto questo in un basket, in un cestino e portarlo alle porte delle tante, diciamo, case che hanno voglia di conoscere alla fine. Guarda che il vino italiano è abbastanza, cioè, è quasi intimidatorio, no? Un po' per i nomi, un po' per le etichette, un po' per, diciamo, per le proprie conoscenze, diciamo, di varietà, no? No, però alla fine è sempre qualcosa che dobbiamo sempre ricordare una cosa, che il nostro vino ha un valore aggiunto, è una sorpresa sempre per i nostri consumatori. Alla fine spesso succede che loro comprano per 10 e bevono per 20. Siamo veramente in chiusura, quindi il messaggio che ci dà Nunzio è molto importante, basta campanilismi, cerchiamo di lavorare in rete, promuoviamo il buon vino, il vino di qualità, i grandi produttori che veramente mettono passione in tutto quello che fanno. Passione che anche io e Letizia, Nunzio, stiamo mettendo appunto in questo ciclo di interviste per cercare di comunicare le eccellenze del nostro Made in Italy anche negli Stati Uniti d'America. Io ringrazio veramente Nunzio Castaldo per essere stato con noi, speriamo di ritornare a collegarci presto con lui. Quando volete. Grazie, grazie Castaldo. Ringrazio di nuovo Letizia Airos. E beh, facciamo un brindisi virtuale, purtroppo non abbiamo il calice in mano, ma insomma lo facciamo. Lo presto lo faremo dal vivo, vai. Virtualmente simbolo, anche con tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci a tutti al prossimo appuntamento di approfondimento con Occhietta, le parliamone e Italy. Arrivederci a tutti. Grazie. Grazie.